Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare questi due libri game che tra l'altro sono usciti da una campagna Kickstarter molto finanziata e che tra l'altro ha suscitato grande interesse perché ovviamente si torna ancora una volta a parlare di Lovecraft, si torna a parlare dei miti di Cthulhu ed è una cosa che non stanca mai, soprattutto che è venuta alla rivalza secondo me negli ultimi dieci anni, perché comunque se ne parla tanto tempo, Necronomicon, tutti quanti i romanzi appunto del maestro, di Howard Phillips, però secondo me negli ultimi anni, soprattutto grazie anche a board game e al libri game, è venuto fuori veramente il boom alla ribalta. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. Vedete c'ho ancora qua dentro il segnalibro perché ieri sono rimasto malissimo di questo gioco, di questo libro game e ora vi dirò ovviamente si scherza. Gioco a cura dell'Officina Meningi, illustrazioni di Alberto Del Lago e Jacopo Schiavo, Valentino Sergi. Allora, questo è il primo Kickstarter che hanno fatto, la serie di Necronomicon Gamebook, e questo è Dagon, il secondo invece è Carcosa, Carcosa che dove si va a parlare del re giallo di Astur, famoso che abbiamo visto, ve l'ho presentato anche nel video lì dietro del gioco Death May Die, e soprattutto nella serie True Detective. Questo sarà argomento di un prossimo video. Oggi parliamo del loro primo Kickstarter, del loro primo libro game, Dagon, che è piccolino, la fin fine non è di tantissime pagine, però già il disegno che c'è sopra in copertina con il dio pesce Dagon è veramente uno spettacolo assurdo e vi dirò la verità, fra tutte le... vabbè mi venne a chiamare divinità, non sono divinità quanti sono, più che altro se le figure nell'ambientazione di Lovecraft vengono citate a volte come antichi dei o come gli antichi soprattutto, più che divinità sembrano quasi creature extraterrene venute appunto dallo spazio, soprattutto come la Progenie Stellare e soprattutto appunto come anche Cthulhu. Sono creature che dimorano nel nostro mondo ma sono venute assolutamente da fuori, per quanto ci sono soltanto accenni e poi non si vada mai nel dettaglio, sia nei libri che nei romanzi che nei videogiochi, se avete visto anche. Lasciano sempre il discorso volutamente in penombra, come ha sempre fatto ovviamente il grandissimo Lovecraft. E in questa avventura ci vedremo nei panni di un investigatore che sta indagando su questo rite, questo culto di Yule, per cercare di capire che cosa sta succedendo nella città di Kingsport, città famosa insomma in tutti i romanzi di, nella maggior parte comunque, dei racconti di Lovecraft, un po' anche come l'avete visto la biblioteca esoterica di Miskatonic. E all'interno di questo Kickstarter c'erano, che secondo me è stata una cosa bellissima, e a volte sembrano anche cavolate, però si vede che hanno pensato minuziosamente nei dettagli a tutto quanto l'Officina Meningi, c'è ovviamente il libro game, con dentro, ce lo tolgo tanto ho fatto una finaccia, con dentro un segnalibro dove nelle caselline potete andare tranquillamente ad annotare il capitolo dove siete arrivati, una specie di save per non dimenticarvi insomma quando lo prendete la volta dopo. Poi in italiano e in inglese, premetto subito che detto ci ho scritto e mia moglie per queste cose mi ucciderebbe, delle schede da compilare per creare il vostro personaggio, che ora poi vi faccio vedere da vicino nel dettaglio, quindi questo era già comprensivo sia in inglese che in italiano dall'altra parte, poi un dado per giocare, tra l'altro bello grande, non lo potete perdere assolutamente, colorato di nero con i numeri gialli e bellino c'è il simbolo sopra degli antichi. E poi la mappa di Kingsport, che vedete qua giù è la mappa dove andrete a giocare, anche questa sia in versione italiana che dall'altra parte vedete in versione inglese. Questa è la scheda del mio personaggio, vedete ho scelto un personaggio con vigore 4, insomma abbastanza buono come picchiatore, volontà, resistenza, ovviamente tutti si parte con 10 che sono i punti ferita, e la volontà è la sanità mentale. Poi il mio equipaggiamento di partenza, tutto quello che avevo, avevo una pistola, con vari colpi, avevo un coltello che mi dava più 2 al vigore in combattimento, quindi i test di combattimento, ho trovato un amuleto di un negromante, però poi non vi faccio vedere nient'altro perché voglio evitare appunto spoiler, poi sono giochi che puoi fare una volta, massimo 2, visto che è un gioco investigativo seguendo un'altra strada, però poi finisce lì. Quando andate a fare un incontro con un mostro dovete sempre scrivere il vostro vigore, vedete c'è scritto tu e avversario, il vostro vigore e la vostra resistenza, il vigore del mostro e la sua resistenza, quindi i punti ferita, e dovete andare a tirare un dado. La regola di questo gioco vuole che quando si tira un dado si va sempre a sommare al vostro vigore, non sempre, a volte ci sono anche prove di volontà, ma nei combattimenti corpo a corpo se io ho vigore 4, tiro il dado e ho fatto 5, 4 più 5 è 9, quant'è il vigore del mostro? Ad esempio il vigore del mostro è 6, quindi di quanto l'ho superato? L'ho superato di 3. Andate nella tabella a livello 3, più 3 ovviamente, che si può andare anche in negativo, più 3 e sotto c'è scritto tu i punti ferita che subisci, quindi 0 in questo caso, e l'avversario che ne subisce 2. Quindi voi qui andate a segnare che non avete perso punti ferita e il vostro avversario ne ha subiti 2. Ovviamente quando andate a raggiungere lo 0, se non avete medikit e cose di cura siete morti, quando arriva lo 0 è morto il vostro avversario e è andato avanti. Mentre invece qui c'è il livello di follia, che parte da equilibrato fino al delirio e ogni volta che subirete o fallirete teste di volontà, l'avventura vi farà presente il libro game che dovete abbassare, segnare una crocetta nella vostra follia e andare giù. E vedete accanto vi darà sempre un malus, che potrebbe essere al combattimento, o un malus alla volontà. E queste cose qui stateci sempre attenti, perché la vera paura in tutti i giochi di Lovecraft e di Cthulhu non è tanto il fatto che tu possa morire quanto impazzire, perché è molto più facile in questa ambientazione qui impazzire e appunto perderci il personaggio. Poi ovviamente i proiettili che possiamo avere, i lavori segnati tutti qui, con le armi, i dollari, perché si potranno anche spendere per comprare equipaggiamento o magari cercare di corrompere qualcuno e quant'altro. Il piccolo segnalibro che vi ho detto, che io mi sono segnato tutti quanti i paragrafi da cui ero partito, ne ho segnati soltanto due, perché poi alla fin fine me lo sono divorato, quindi non ho mai, o almeno quasi mai, utilizzato il save. La mappa di Kingsport sul lato italiano, questa qui da tenela sempre sott'occhio anche per sapere più o meno dove vi state spostando. Introduzione, ovviamente, al libro game. Le regole di gioco, come vi ho detto, descrizione di vigore, descrizione di volontà, regole sul combattimento, regole sulle armi, regole sull'equipaggiamento, il livello di follia, che è la cosa in assoluto più importante e veramente tenete più sotto controllo la follia a volte che i punti ferita, perché rischiate veramente grosso. Le terre del sogno, perché non sarebbe un'ambientazione di miti di Cthulhu, di Lovecraft appunto, non poter visitare le terre del sogno, che sono quelle terre parallele su cui appunto i sognatori possono spostarsi e rischiano non soltanto di perdere l'anima, ma anche proprio il corpo fisico. Soprattutto, la sanità mentale, una volta risvegliati. Tornare indietro, tornare indietro anche i suoi propri passi, e vedete Morte. Qui ci dà ancora una volta una tabella che potete, scusate, una scheda che potete compilare, ma tanto avete già quella che vi ho fatto vedere prima, e poi tutti quanti i capitoletti che qui, ragazzi, ve lo faccio vedere velocemente perché non vi voglio spoilerare nulla, non leggete quello che c'è scritto, e i disegni che sono veramente bellissimi. I disegni che si dividono fra le terre del sogno e ovviamente il mondo reale, più o meno, almeno che non siete tutta una follia. I disegni sono veramente qualcosa di spettacolare e Miguel vanno a morire e non potevano mancare i cultisti incappucciati. E ci hanno messo anche il lapis da puntare con la gomma, che è una cavolata, però almeno siete già pronti per giocare, spacchettate e giocate direttamente. E ragazzi, questo è tutto quanto il contenuto del Kickstarter. Ora, se devo essere sincero, a me, ovviamente quando si parla di Cthulhu, si parla di romanzi di Lovecraft, sfondate un portone aperto, perché, ve l'ho detto, il mio gioco preferito è Deep Madness, che proprio usa a piene e mani le ambientazioni di Lovecraft i miti di Cthulhu e a me piacciono veramente da morire. E sono molto curioso, e lo inizierò quanto prima, di leggere anche Carcosa, parlando appunto di Astur, del re giallo. Perché fra tutte le figure, questa forte citata un po' meno, da Lovecraft e nei suoi romanzi, quella che mi ha appassionato di più, grazie anche alla serie True Detective, è appunto il re giallo e la sua demora di Carcosa, più che Cthulhu nella sua demora millenaria, direi lei. E quindi non vedo l'ora di leggerlo e di farci appunto una recensione che sarà materiale a parte. Se devo dare un voto a questo gioco, e ora ovviamente lo motivo, a questo libro game qui, al primo della serie. Io penso che abbiano fatto solo questi due, ma non so, magari se ho detto una cavolata, io spero che ne faranno anche altri. al primo di questa serie qui, The Necronomicon Gamebook, Dagon, gli do un 6 su 10, che un 6 su 10, nel mio caso comunque, è sempre un voto alto, è sempre un voto positivo, ci mancherebbe, però se glielo abbassato di qualche punto, lo abbasso un attimino qui, è perché una cosa che a me personalmente, no, non che disturba, però non piace prettamente tanto in un libro game, è che i capitoletti siano troppo corti e per la maggior parte, comunque i paragrafi. Ora, il libro è proprio tutto piccolino, nel senso, quindi è normale che se devi andare a narrare più filoni, più strade appunto da percorrere e soprattutto in un gioco investigativo ci devono essere più filoni logici da seguire, per quanto poi il finale ovviamente sarà uno soltanto, devi insomma cercare di sfruttare al meglio anche appunto i paragrafi e i capitoletti, però secondo me sono un po' troppo piccolini, perché come avevo già detto di un altro libro game che avevo letto non molto tempo prima, non dico che ogni capitoletto debba essere di 10 pagine, però almeno una paginetta tutta o due, sì, perché è troppo veloce, arrivi lì, vedi che praticamente dalla casa esce un cultista con una cetta in mano, prende e ti attacca, ok, inizia il combattimento, ci potevi mettere un po' di informazione in più, cioè potevi, non è che non ti fa calare nella parte, però succede tutto troppo alla svelta, io è successo senza dirvi niente che abbia iniziato l'indagine, poi abbia seguito dei cultisti e dopo nemmeno tre pagine che seguivo questi cultisti, ero già arrivato a vedere qual era il culto, cosa stavano facendo e alla quarta pagina c'era già un combattimento e poi mi sono risvegliato chissà dove e non vi dico altro, quindi succede tutto un po' troppo alla svelta, no alla rinfusa, però potevano secondo me dosarlo un pochino meglio e rispetto al lato investigativo è molto più attivo il lato combattimento, mi è capitato di combattere lupi mannari, figli di Dagon, cultisti, cioè ho picchiato tutto che manco davvero in un film di Conan il Barbaro e poi si rischia troppe volte di morire, ve lo dico sincero, una volta sono morto ho riniziato, la seconda volta sono morto ho riniziato nel giro di un'ora, la terza volta che stavo per morire nel giro di un'ora tenevo sempre un pollice o un dito comunque nel capitoletto di origine da cui partivo e prendevo un'altra strada perché ogni volta di riniziare da capo insomma non avevo voglia, quindi anche il tasso di mortalità è particolarmente alto che potrebbe essere un punto a favore e un punto a sfavore di un'ambientazione come Cthulhu appunto quindi questo per me non è completamente un malus quindi un 6 su 10 secondo me assolutamente meritatissimo mi è dispiaciuto di aver dato anche volentieri un voto e mezzo in più però per il fatto anche anche due però questa cosa qui dei capitoletti troppo piccoli e troppo veloci sinceramente un pochino me l'ha smorzata vi lascio il primo link in descrizione dove andare a vedere ovviamente il sito dell'officina Meningi e sotto a seguire tutti quanti i nostri social dateli veramente un occhio ragazzi perché è roba interessantissima e per i fanatici di Lovecraft non vi deve mancare Cthulhu Ftang ciao ragazzi alla prossima